Leggiamo ora questi altri tre problemi di geometria. Il problema numero uno ci dice che la differenza tra le ampiezze di due angoli complementari è di 36 gradi. Calcola l'ampiezza di ciascun angolo. Il problema numero due recita questo. Dividi il segmento AB lungo 42 cm in due parti AC e CB tali che il loro rapporto sia pari a 5 mezzi. Il problema numero tre afferma che chiede di determinare la lunghezza di due angoli adiacenti sapendo che è uno e i due terzi dell'altro. Li andiamo subito a risolvere. Risolviamo il problema numero uno ricordando il testo che ci dice che la differenza fra le ampiezze di due angoli complementari è di 36 gradi. Calcolare l'ampiezza di ciascun angolo. Allora ho rappresentato qui in alto a sinistra i due angoli. L'angolo alfa superiore all'angolo beta. Il primo dato l'ho riassunto così. La somma di due angoli alfa più beta è pari a 90 gradi. Infatti ricordiamo che due angoli si dicono complementari se la loro somma è un angolo retto. Vedete che abbiamo formato qui un angolo retto con le semirette AB e AC e la somma di questi due angoli alfa e beta ci dà proprio l'angolo BAC che è proprio l'angolo retto. Quertanto questo è l'angolo alfa, questo è l'angolo beta rappresentato con il tratto rosso l'angolo beta, con il tratto nero l'angolo alfa. Il secondo dato è che la loro differenza è pari a 36 gradi. Quindi alfa meno beta, visto che alfa è l'angolo maggiore, è pari appunto a 36 gradi. La tesi, quindi quello che ci chiede il problema è, vedete, calcolare l'ampiezza dei due angoli alfa rispettivamente è beta. Indichiamo con x l'angolo alfa, quindi alfa è uguale a x. Sfruttiamo a questo punto il primo dato dicendo che se alfa è x, beta evidentemente sarà 90 meno x. Sostituiamo nel dato numero 2 trovando che al posto di alfa ci mettiamo x meno, al posto di beta ci mettiamo fra parentesi 90 meno x e ugualiamo tutto quanto a 36. Ci vogliamo la parentesi, x meno meno x è un x più x che fa 2x uguale, meno 90 trasportato a destra per la regola del trasporto è un più 90 più 36, l'equazione diventa 2x uguale a 126. Applicando come al solito il secondo principio di equivalenza dell'equazione, attiriamo che x è uguale a 126 fratto 2, ovvero x uguale a 63. Pertanto se x è l'alfa, alfa abbiamo trovato ad essere un angolo di ampiezza pari a 63 gradi, beta invece è l'angolo minore di ampiezza pari a 27 gradi. Il problema numero 2 ci dice di dividere il segmento AB che abbiamo rappresentato qua in lungo, lungo 42 centimetri e quindi questo è il primo dato, AB uguale a 42 centimetri, in due parti, eccole qui, il segmento AC che ho rappresentato in basso e il segmento CB che poi ho rappresentato ancora più in basso. Naturalmente come secondo dato dobbiamo mettere che AB, il segmento totale, è dato dalla somma di AC più CB, questo non ce lo dice il testo ma lo diciamo noi, è evidente. Il dato numero 3 è il testo che ci dice che sono tali AC e CB, che il loro rapporto è uguale a 5 mezzi, quindi AC fratto CB è uguale a 5 mezzi. Allora sfruttiamo questi tre dati per impostare la nostra solita equazione nell'unica variabile x. Le tesi, la domanda è che dobbiamo calcolare, evidentemente non c'è scritta ma lo diciamo noi, dobbiamo calcolare i due segmenti AC e CB, ovvero le due parti che compongono il segmento totale AB. Come al solito diamo a X, indichiamo col segmento AC, indichiamo il segmento AC con la lettera X, pertanto AC è pari a X. Dal dato 1 avremo che insieme, combinato col dato 2, avremo che AC è pari a X, CB che compare nel dato numero 2 è evidentemente pari ad AB meno AC, ovvero AB meno X, ovvero AB è 42, CB è pari a 42 meno X. Sostituendo questo valore nell'equazione, nel dato numero 3, troviamo che evidentemente X che abbiamo posto pari, che è AC fratto tra parentesi 42 meno X è proprio uguale a 5 mezzi. Equazione frazionale numerica nella quale determiniamo le condizioni di esistenza che si significa porre 42 meno X diverso da 0, quindi X diverso da 42. Facciamo il minimo comune multiplo oppure andiamo a fare un incrocio a X, moltiplichiamo cioè 5 che moltiplica 42 meno X e lo ugualiamo a 2 per X. Conseguentemente, risolvendo, otteniamo che 7X è uguale a 210. Dividendo ambi due membri per 7, quindi applicando come al solito il secondo principio di equivalenza dell'equazione, otteniamo che X è uguale a 210 settimi, ovvero X uguale a 30, ma X è AC, quindi AC è 30 centimetri, segmento maggiore, CB è pertanto 12 centimetri. Esolviamo dunque il problema numero 3, che ci dice di determinare l'ampiezza di due angoli adiacenti, sapendo che uno è i due terzi dell'altro. Allora andiamo a scrivere i dati. Intanto, come al solito, per prima cosa disegniamo la figura che sta a rappresentare due angoli, come nel caso del problema 1, indichiamo rispettivamente con l'angolo α e l'angolo β. Dunque, ricordiamo una definizione importante. Due angoli si definiscono adiacenti. Se, ricordiamo, sono consecutivi, ossia, lo ricordo, per essere consecutivi devono avere il vertice e un lato in comune e giacere da parti opposte rispetto al lato in comune. Inoltre, oltre ad essere consecutivi, ve lo ricordo, devono avere i lati non in comune che giacciono sulla medesima retta. Questa è quindi la figura che è tradotta da questa definizione. Pertanto, come potete vedere, dalla figura si evince chiaramente come la loro somma, ovvero la somma di α e di β, ci dà proprio questo angolo che in tutto è un angolo piatto, cioè misura 180 gradi. Quindi α più β è sicuramente pari a 180 gradi, che è un dato che è nascosto dal testo ma che dobbiamo mettere. Il dato numero due, invece, è che uno è i due terzi dell'altro. Notiamo come effettivamente β, in questo caso, lo abbiamo supposto maggiore rispetto ad α, quindi diremo che α è pari ai due terzi di β. Evidentemente la tesi, cioè le domande che ci fa il testo, che ci pone il testo, sono calcolare l'ampiezza di α, vedete, è di β. La soluzione, come al solito, indichiamo con β, poniamo β pari a x. Sfruttando il primo dato, avremo che se β è x, α sarà 180 meno x. Sostituendo nel dato numero due, vedete, otteniamo che α, che è 180 meno x, è uguale a due terzi β, quindi due terzi x. Risorgiamo applicando, facendo un minimo di moltiplo che è 3, 3 diviso 1 3, 3 per 180 è 140, chiedo scusa, meno 3 diviso 1 3, 3 per meno x è meno 3x, uguale appunto 3 diviso 3 è 1, 1 per x per 2 è 2x. Trasportiamo il meno 3x per la regola del trasporto a destra, otteniamo che 5x è uguale a 540 e pertanto, dividendo per 5 ambi due membri, applicando quindi come al solito il secondo principio di equivalenza dell'equazione, otteniamo che x è pari a 540, quindi ovvero x è pari a 108, ma x era pari a β, quindi β è 108 gradi, quindi l'ampiezza dell'angolo β è pari a 108 gradi, l'ampiezza pertanto dell'angolo α che è 180 meno 108 è 72 gradi.